Solamente una comunicazione rapida, la squadra è in ritiro, non parla nessuno, le parole servono a poco, la parità l'avete vista, ci schiariamo un po' le idee. Pochissime parole, tante quante, sono stati fatti esibiti dal Bari nello scialbo 1-1 del San Nicola contro la Cavese. Sono quelle usate nel post partita dal direttore sportivo Giancarlo Romairone per comunicare la decisione presa dopo il solo punto rimediato nelle ultime due gare di campionato. Prove che hanno probabilmente rappresentato la fine dei sogni di primo posto per Maite e compagni. Oggi a meno 11 dalla Ternana capolista, ritiro fino a data da destinarsi. La partita pareggiata grazie al gol di Dursi dopo il vantaggio di Bubas contro i campani di Campilongo, squadra ben organizzata ma già a K.O. 12 volte nel corso del torneo e arrivata al San Nicola da ultima della classe, ha messo in mostra tutte le lacune del gruppo. Da quelle tecniche con una squadra che senza Antenucci perde i riferimenti offensivi, incapace di andare oltre il 3-4-3 e abile solo passando al 4-2-3-1 nel raggiungere l'avversario, a quelle psicologiche con le difficoltà a palesare anche una reazione nervosa, d'orgoglio, arrivata solo dopo il gol del pareggio segnato al 73. La montagna ha però partorito un topolino, tanto che dopo il centro di Dursi il portiere della Cavese, Cucic, è stato costretto solo a un altro intervento, in uscita bassa su Candellone, uno dei tanti insufficienti della partita. La vista è sulla sfida di domenica alle 12.30 contro la Viterbese, ancora al San Nicola, sfida che è il sapore dell'ultima chiamata per tutti, da mister Auteri, sul quale pende l'ombra di Massimo Rastelli, all'area tecnica che ha ritoccato profondamente l'organico tra la sessione estiva e quella invernale di mercato, fino ai calciatori. Il presidente Luigi De Laurentiis a fine partita ha abbandonato gli spalti scuro in volto, come già successo quattro giorni prima nel K.O. di Teramo. Questa volta però si è fatto sentire subito da squadra e staff negli spogliatoi, chiedendo di cambiare immediatamente marcia, perché il 2021 del Bari, otto punti in cinque partite, si inquista esibendo la versione impacciata e mediocre di un organico destinato a inizio torneo a lottare per la promozione.